Se la vita ci dà dei limoni, dobbiamo fare una limonata. Ma se la vita ci dà Nico 3.005, dobbiamo giocare insieme ad una mappa di piccoli cari armati. Sei pronto, Nico? Ma stai bene? Cioè, te la sei pensata, sta roba? Sì, me la sono pesata stamattina. È stato davvero molto... Da quant'è che ce l'avevi... Ah, beh, capito. Da qualche ora ce l'avevi... Me la ripetevo in mente tutto il tempo. Dobbiamo combattere con dei cari armati, Nico, sei pronto? Va bene, posso farti a sbloodere. Allora, io entro in una mappa, sei pronto. Tu non potrai mai vincere. Oddio. Ma tu sei quella roba di blu piccolina? No, io sono quello rosa. E il blu, quello blu è bot. Sei pronto, Nico? Entra, Nico, entra, veloce. I bot mi stanno già sparando. Non sono bold. Aspetta, ma sono sparti i bot. Oh, mio Dio. Ah, ma siamo io con te, basta. Non ci sono bot allora. No, io sono rosa. Perché tu sei, credo, sono rosa? Sono verde. Dove sei, Nico? Ma sono lentissimi i miei colpi. Ah, ciao, Nico, ecco, è seduto di me. Scusa. Sto preso. No, non mi hai preso per niente. Tu non puoi prendermi. Io ti distruggo. L'ha già preso. L'ha già preso. Come? No, no. Ha rimbalzato il colpo. Non è possibile. Comunque, chi arriva primo a 50 punti vince. E se muoviamo, perdiamo il 50% dei nostri punti. Vada, Nico, lì con la corona in testa. Io ho trovato dei power-up super carini. Ho tipo un missile rosso. Vediamo cosa fa. Ah, aiuto. È fortissimo quello. È fortissimo, aiuto. Ti sei ucciso da solo. Mi sono ucciso col tuo coso. No, ti ho ucciso io. Ti sono io ucciso col tuo coso. Non diciamo bananate, per favore. Sì, sì, sì. Siamo pari, abbiamo gli stessi punti. Devo vincere io, non puoi vincere te. È una mina. Nico, hai una mina in testa, per caso. È arrivato che ci sono le mine. Cos'è il bronzo? Ah, ok, è un punto. Andi qua. No, 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 no. Ci spavento. Eh, siamo morti, Nico. Devo prendere... Dove sono i soldi? Dove sono i soldi che sono per terra? Devo trovarli subito. Però si è andesploronati tutti. Allora, ci sono neanche uno. Cos'è quella cosa? Un scudo. Mi piace un scudo. Ah, no. Cos'è questo? Mi è apparso un muro davanti alla faccia. No, 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 no. Via, 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 via. Vado esplodere, vado esplodere, vai. Vado esplodere, Nico, vai, forza. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Eh, fallo esplodere. Perché non vuoi esplodere, Nico? Non so neanche come si faccia. Eh, devi... No, devi ripremere, Nico. Ho due punti. È possibile. Ok, sono qua su qua. Non ha senso neanche... Oh, porca di quella mia... Dai, fallo partire. Perché non vuoi esplodere la tua mina? Non è il momento. Ok, l'ho fatta esplodere io, meno male. Ci ho fatta. L'ho fatta esplodere io, comunque. No, io l'ho fatta esplodere. Prendi questa mina. Mori, devo uccidere. Nico, vai. Vemca la mina. No, tu vuoi farmi giro, giro tondo, secondo me. No. Tu vuoi uccidermi. No, dimmi questa cosa. È una fake nude. Lo sai? Lo sai che sono un pirla? È troppo facile questo gioco. Non è troppo facile, è che sono stupido. Hai 14 punti, devi arrivare a 50 per vincere, Nico. Sei stupido. Meno male che la faccio, sto gioco. Meno male che la faccio. È che ho avuto un problema molto grave. E sì, quale. Poi te la spiego. No, dimmi, dai, dimmi, Nico. No, è che mi... No, non capisci. Non puoi capire. No, devi raccontarmelo subito. Guardate quanto sono bella cosa. Guarda che mi hai rubato tutto, t'ho visto. No, 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 no. Via, 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 via. Dannazzo. Vai, vai, prendi le mine, prendi le mine, forza, Nico, prendi le mine. Io, purtroppo, sono... Sei? Ho capito al fatto che non esplodo con le mie robe. Eh, mi esplode con le tue stesse cose. No. Ma tu giochi in normale o con l'F5 attivo? Normale. Eh, con l'F5 attivo è fighissimo, lo sai, perché vedi anche te stesso che giri intorno. No, 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 non mi interessa, non mi distrarre. Guarda. Ho il triplo, ho il triplo colpo, il triplo attacco. Oh, scherzo, bella miseria. Quanto dura questo triplo? No, dai, ne ho solamente tre. Altre, dai. Dai, muori, ti prego. Ah, sì, mi sono ucciso da solo, non è... Soldi. Come è possibile? Come è possibile che mi uccido da solo? Ehi, soldi. Dove sono? Mi sono perso. No, devo ucciderti, non è possibile. Cosa è questo power-up? È un piccone? Un piccone. Cosa fa il piccone? Perché è un piccone, scusa? Io mi... Oh! No, 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 via, via, via. Ah, sparmi veloce. Ah, sì, sei velocissimo, Nico. Sono fortissimo, sta... Uh. Come fai uccidermi ogni singola volta? Tu non è possibile. Ho capito, lo chissé scarsissimo. Bravo, bravo, sarei forte a sto gioco, però io ti batto in qualcosa, ti batterò? Niente, niente, mi batto. Ti batto in molte cose, solo che adesso non mi ricordo, ok? Niente, non so cosa faccia questo proiettile. Eh, era molto... No, 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 via, via, via. Ah, oddio, ma ti segue? Eh, penso di sì. No, sì, 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 mi segue tantissimo. No, aspetta, non lo sto capendo. Eh, sì, ho visto che mi seguiva, quindi... Oh, no, no, devo evitare, devo evitare, devo evitare subito. Come vai a aver 21 punti? Attiva la mina, forza. E non so dove... Ah... Bella, bellissima mina. Una mina davvero bellissima. Ma non l'ho attivata io. L'hai attivata e sei anche morto, Nico. Giuro, non l'ho attivata io. L'hai attivata... No, eh, Nico, ammetti le tue colpe, ammetti le tue colpe, ammetti. Dove sei finito, Nico? Eccolo qua! Come... No, 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 avevo lo scudo, avevo lo scudo. Ma che cos'è sta storia? Avevo lo scudo, che fortuna! No, no, ma dove è possibile? Sei morto con quel schifo, cavolo mondo. Eccoli qua, sono sbagliati in parte i punti, Nico. E vabbè, sei favorito dal gioco. È tutta fortuna. Nella vita bisogna avere un po' di fortuna, no? Non ti ho ucciso... Quante volte ti ho ucciso veramente io? Mai. Ecco. Come fai tu a non morire... Io muoio ogni singola volta. Ma perché io sono forte in questi giochi, purtroppo? No, 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 io devo evitare via via via. Devo prendere i power-up. E senza quelli non posso batterti. Eh, perché sono troppo forte, se no, eh. Hai fortuna. Hai fortuna? No, non ho fortuna. Fortuna! Vuoi farli rimbalzare, te? Farli rimbalzare, farli rimbalzare, farli rimbalzare qua. Te ti aspetta, Nico, non vieni. Ma che cosa? Eh, sì, funziona così. Non so se lo sapevi. Esplodono e fanno casino. Mi ricordo un giochino che giocavo da piccolo. Quale, scusa? Eh, bomber... Boh... Bohm... Qualcosa, qualcosa con bombe. Bohm... Bohm... Non ho presente. È quello che ti faccia in un campo e devi lasciare le bombe che esplodono. È bellissimo. Ah, mi ricordo! Se mi ricordo che giocavo, però non mi ricordo dove, quando, come e perché. Non mi ricordo di questi razzi. È solo... Dai, non è possibile! 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 Cos'è questo? Ok, ho tantissimi power-up, ok. Nico? Cos'è sta cosa? Sicuro che basti nei power-up che hai? Io sì, finito che... Ma è velocissimo sta cosa. Ah, ce l'ho anche io. Oh, non puoi sfuggirmi! Non puoi sfuggirmi! Oh, che cosa? No, 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 dai, non è possibile! No, non è possibile, dai! Ah, non è fisico! Eh, adesso traiardo! Io gioco anche io in prima persona e traiardo tantissimo! Tu non hai idea di come traiardo adesso! Dici che è la persona? Eh, sì, è proprio la persona! Vieni qua, Nico! Ti vedo con la tua corona in testa! Che ti atteggia, re del mondo dei carri armati! No, sono il bigre! No, in realtà è il bigre! Ero io e non lo sono più! Non è possibile che tu non muori! Non stai morendo! Come ha fatto a morire? Perché muoio se non ti ho ucciso manca una volta! Tu? T'ho capito! Che sei proprio scarsullo con gli occhi! Sei scarsullo! Quanto stai triardando da 1 a 10, Nico? No, in realtà è zero! Cioè, mi sono soffiato anche il naso prima mentre tu non c'eri! Com'è? Prima mentre tu... Ho due punti, Nico! Ho due punti! Infatti non ha senso neanche ucciderti! Boh, vabbè! Devo ucciderti in qualche modo mentre tu raccoglii le monete! Dove sei finito? Tu? Ho capito! Tu? Non puoi vincere! Mi ero anche allenato! No! Sì, sì, sì! Espuna! Espuna! Dove, dove, dove sto? Dove? No, no, no! Perché sei pronto vicino a te! Sei pronto vicinissimo! Non va bene! Tu? T'hai capito! Oh, porca miseria! Oh, porca miseria! No! 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 Sì, sì! Sì, sì, sì! Attenzione! Chi era del mondo adesso? Nico, racconta! Chi era del mondo? No, perché di quella miseria! Vai, Nico! Chi era del mondo, Nico? Chi è? Non è che un punto in più, no? È che... Va bene! Comunque un punto è molto buono, no? Ti faccio... Esplodere quella mina! Ti faccio giro-girotondo con le mine! Non puoi più uscire! Sei bloccato lì per sempre! Tutta la tua vita! No, ti faccio... Ti faccio spodere io! Non lo faccio fare esplodere la mina! Devi colpire, Nico, le mine per far esplodere! Non so se lo sai! Giustamente, giustamente direi che è giusto! Perché tu stai verde però? Cioè, io non so, io volevo essere... No, 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 no! Tu hai super... Vediamo la sua picchia di 24.000 bombe! Non è possibile! Non è fisicamente possibile! Non è fisicamente possibile! Mi stai per caso prendendo un giro, Nico? No, no... Oh! Nico, cos'è? Non lo so, esplodono cose! Ho notato, sai? Attenzione, attenzione, attenzione! No, 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 no! Devi morire in qualche modo! Quanti proiettili hai? No! Mori, 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 mori! Devi morire, Nico! Noi che mi ammazzo da solo! La fine che muoia da solo! Muoia da solo! Io lo so! Muoia da solo! Ma no! No, non è vero! Come fai prendermi ogni singola volta, Nico? Non è possibile che ogni singola volta tu mi prenda! Allora, ora te lo spiego! Ah, spiega, spiega! Praticamente! Praticamente? Praticamente! E? In pratica? In pratica, sì! Se tu lo vuoi... Tu lo sarai! Una di noi! Nico, adesso morirà! Non ci segreda! Siamo morti entrambi! Non ci segreda! Questa cosa non è possibile! Perché? Dov'è il loot? Devo prendere tutte le cose! Altrimenti sono morto! Oh, porca di quella miseriaccia! Mi sono ucciso da solo! Mi sono ucciso da solo! Mi sono ucciso da solo! Hai un posto qui, non posso dirtelo! C'è un certo che posso dire! È una tattica, Nico! Era tutta una tattica! Tanto lo so che adesso io sono stato prima tutto il tempo e alla fine mi uccidi e vinci! Ma certo che vinco io! Cosa pensi, Nico? Dammato! No, 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 no! Ma quanti deranci in un secondo solo? Boh, sto spammando! Oh! Schifo! Oh, attenzione! Chi è primo? Chi è primo? Chi deve vincere? Vince Locco! Perché Locco è fortissimo, Nico! Locco non può perdere in nessun modo! Ma hai fatto una kill! Più di una! No, ne hai fatta una! Più di una, Nico! Beh, sopravvivi a questo, dai! Divertiti! Beh, io sopravvivo tantissimo! E sei tu che non sopravvivi a questo! Dove sei finito, Nico? Ah, no! È proprio giro, giro! Tonto, non te l'ho visto! Sei sopravvissuto! Devo scappare, scappare, scappare! Devo scappare! Scappon, Loco, scappa! Ok, ok, ok! Guarda che giro che fa! L'he evitata! Non l'he evitata! Non l'he evitato niente! No, 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 no! Mi sono mutato per sbaglio, aiuto! Sai che mi mancano tre punti? Ho notato, Nico! la facciamo tra i quali contro i quali non trego nico trego nico trega no 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 sono lontano sì sì dai mi tutto dai mi tutto tutti tutti sì 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 40 me manca ne manca 10 me manca 10 dico e vinci sappia che sei stato scorretto no dai che non posso urlare che mi va via la voce sì 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 ok ma con questa 5 solamente 55 punti attenzione e nico ha perso e vincitore è loco lochis loco lochis vince loco lochis è il migliore 50 punti per loco perché nico ha perso primo primo tutto il tempo e nico ha comunque perso ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto nico sta ancora giocando contro due bot ma perde lo stesso perché nico è scarso primo tutto il game a quanto pare non sei stato fortunato nico sai che io ti voglio molto bene però hai perso grazie per averci stati nei commenti scrivete nei commenti primo tutto il game ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti primo tutto il game ciao a tutti